Se ci sarà un candidato forte, autorevole, capace di unire il Partito Democratico, anzitutto, le primarie non saranno necessarie. Ed è, credo, l'auspicio. Il Partito Democratico dice addio alle primarie dopo l'esito infelice della precedente tornata elettorale in cui le primarie di coalizione hanno di fatto riconsegnato un centro-sinistra spaccato dopo il voto. I Dem di Padova scelgono dunque di non rischiare, individuando da subito un unico candidato forte. Noi abbiamo bisogno di andare velocemente in campagna elettorale per parlare del futuro di Padova. Vietato sbagliare adesso lo ammette l'ex capogruppo in consiglio che di fatto smentisce il suo nome tra la rosa dei candidati ed anche quello dell'ex primo cittadino Flavio Zanonato. L'ex sindaco Zanonato si è, da quanto vedo, messo a disposizione per dare una mano, per dare una mano attraverso la sua esperienza amministrativa. Non certo mi pare per rimettersi in pista come alcuni, penso in mala fede, vogliono far credere. Coalizione forte, uomo-donna che sappia unire e che sia sorretta da una squadra affiatata, non necessariamente appartenente al PD. Questo l'identichita al quale il partito starebbe lavorando. Sono moderati, sono meno moderati. L'importante è che ci sia una coalizione larga, coerente nel proprio programma e determinata a realizzarlo. E non che si sfaldi dopo poco tempo, come è accaduto a quella precedente, che ha miseramente fallito. In questi giorni Dem di Padova starebbero anche preparando un documento di risposta, punto per punto, agli attacchi dell'ex primo cittadino Massimo Bitonci, che ha gridato alla congiura.